La cattedrale di Palermo è avvolta in un silenzio solenne oggi, mentre amici, familiari e colleghi si riuniscono per i funerali di Angelo Onorato, l'architetto marito dell'eurodeputata Francesca Donato. La tragica scoperta del corpo di Onorato nella sua auto, con una fascetta di plastica attorno al collo, ha scosso profondamente la comunità. L'autopsia, condotta il 29 maggio, ha gettato luce sulle cause della morte, escludendo segni di violenza evidenti se non gli ematomi lasciati dalla fascetta. Tuttavia, la moglie di Onorato respinge categoricamente l'ipotesi del suicidio, insistendo sul fatto che l'autopsia non chiuda le indagini. Sono certa che si farà luce su questa tragica vicenda, ha dichiarato Donato al Corriere della Sera, e verranno individuati i responsabili di questo delitto. Mentre il rito funebre si svolge nella cattedrale, l'intera comunità rimane in attesa di ulteriori sviluppi su questo caso che continua a suscitare interrogativi e dibattiti. Il mistero che avvolge la morte di Onorato tiene incollati lettori, desiderosi di scoprire la verità dietro questo oscuro evento. Grazie. 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 Grazie.